Siamo sempre appunto su cosa fare, cosa fare prima, andrebbe fatto tutto in contemporanea e nel frattempo la situazione peggiora, però sicuramente un primo elemento è quello di, credo, di creare una consapevolezza nelle persone e quindi una nuova coscienza anche civile. Forse siamo in un'epoca storica in cui è necessario ripensare alcune categorie che finora ci sono sembrate normali. Quindi passerei la parola a Luca Savarino chiedendo appunto se forse c'è bisogno di una nuova responsabilità. La cattiva notizia è che caschi male perché io non sono mai propositivo e semmai è un invito alla disperazione, invece la buona notizia è che ci metterò a meno di sette minuti. No, allora direi che da quello che ha detto Roberto emerge il fatto che si tratta di una serie di problemi che sono legati al funzionamento complessivo del pianeta che va compreso come una serie di legami interconnessi di grande complessità. Cioè il discorso riguardante la crisi ambientale è molto complesso e ha una serie di variabili di carattere scientifico che tra l'altro chiamano in causa più scienze, le cosiddette scienze della terra, che rendono la questione innanzitutto di grande complessità, di difficile comprensione salvo il fatto che intuitivamente tutti credo possano capire che si tratta di una situazione molto difficile. Questa complessità, questa interconnessione e il fatto che tutti questi fenomeni facciano riferimento intanto ad una serie di cause molto distanti, interconnesse fra loro, per cui trovare un responsabile di questo genere di situazioni è molto difficile e anche ad una serie di effetti che questa situazione produce, per cui trovare un'unica soluzione altrettanto complicata, anzi impossibile, tutto questo rende il problema un problema molto particolare, nel senso che è un problema che chiama in causa sia una montagna, una somma di responsabilità individuali molto elevata, tale per cui ciascuno di noi è chiamato a fare qualcosa ma questo fare qualcosa significa poi alla fine correggere un proprio stile di vita, perché il vero problema è che questo genere di situazioni è stato creato da un sistema economico, da una somma di stili di vita individuali che sommandosi hanno creato una situazione che sta diventando molto grave. Quindi, se noi ragioniamo in questi termini, capiamo che la questione della responsabilità muta il modo in cui noi abbiamo pensato tradizionalmente la responsabilità, cioè noi abbiamo pensato giuridicamente e anche dal punto di vista etico la responsabilità come qualcosa che riguarda i miei comportamenti nei confronti di qualcuno che io ho vicino a me, uno con cui condivido un legame di prossimità, io non devo fare determinate cose che danneggino il mio vicino, devo comportarmi in un determinato modo che facilite la vita del mio vicino e via dicendo. Qui si tratta di una serie di comportamenti minimi, pensate alla raccolta differenziata, che hanno delle conseguenze a lungo, lunghissimo termine e dal punto di vista spaziale hanno delle conseguenze che riguardano la vita di tutto il pianeta e di tanti di tutto il pianeta. Quindi, il punto fondamentale è che rende la situazione difficile ai limiti della impossibilità della correzione dal punto di vista, secondo me, della responsabilità individuale. Uno, il fatto che si tratta di problemi molto difficili da comprendere, a meno che non vengano spiegati. Ovviamente qui l'educazione ha una parte fondamentale, devono venire spiegati e divulgati in maniera molto chiara. Poi si pone il problema di comprendere che cosa si può fare e anche qui ciascuno può dare un contributo minimo alla soluzione di questo genere di questioni senza illudersi che il problema possa essere risolto a livello individuale. Si può dare un contributo che in qualche modo sta a metà tra la testimonianza e qualche cosa che effettivamente può essere davvero utile. Perché qui si tratta di reggere lo stile di vita di milioni di persone, questa è la realtà. E probabilmente anche un sistema economico che preleva troppe risorse rispetto a quelle che sono disponibili. E la terza questione è anche una questione che io direi chiama in causa dei legami di tipo empatico. Cioè io mi chiedo per quale motivo noi dovremmo spiegare. Cioè allora noi possiamo spiegare a qualcuno che le sue azioni qui e oggi danneggiano le generazioni future e gli abitanti del Bangladesh. Uso sempre l'esempio degli abitanti del Bangladesh perché Paolo Vinis che molti di noi conoscono ha studiato la situazione del cambiamento climatico in Bangladesh. Quindi quello che noi oggi facciamo danneggia gli abitanti del Bangladesh. Il problema è far capire che noi abbiamo una responsabilità nei confronti degli abitanti del Bangladesh o nei confronti delle generazioni future che attualmente non sono nemmeno qui. E quindi uno potrebbe chiedersi per quale motivo io devo modificare i miei comportamenti perché i miei comportamenti danneggiano uno che vive in Bangladesh o uno che non esiste e che viva fra 50 anni. Allora questo genere di affermazioni possono sembrare un po' ciniche ma secondo me non sono affatto ciniche nel senso che questa è la realtà dei fatti.